Ciao, io sono Carolina. E io sono Arianna. E siamo Best Friend For Ever! Carolina ha 11 anni in vivo a Palermo. Una persona simpaticissima, agitatissima. Devo ridere sempre. Fedele e leale. Riesce sempre a consolarmi e andermi felice. Facciamo ginnastica artistica insieme, anche se lei aveva iniziato prima di me. Fino all'anno scorso faceva anche nuoto sincronizzato. Infatti, a volte, a mare mi fa vedere delle perografie. Oppure ce le inventiamo. Possiamo andare all'acquapark? Eh, il mio gioco preferito sono gli scivoli, quelli lunghissimi. A me pure, a me pure quelli che fanno il tru, 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 tru. Arianna ha 12 anni e siamo in classe insieme, anche se siamo diventate amiche grazie alle nostre sorelle. È molto affettuosa, mi vuole abbracciare sempre. Quando siamo insieme non riusciamo a non ridere. È una delle poche persone di cui mi posso tirare, solo che è un tantino vanitosa. Io sono un po' meno vanitosa, grazie a lei. È migliorata moltissimo. Un po' lo so ancora, però poco. Perché all'inizio ti stavo antipatica? Perché non mi facevi mai parlare, poi quello che dicevi tu era tutto giusto, per forza. Non è vero! Vero! Tu proprio insistevi tanto, no, no, è così, è così. Ci abbiamo messo tanto prima di diventare amiche, perché prima non andavamo per niente d'accordo. Ma dopo un'estate è trascorsa insieme al mare in Marsala e è cambiato tutto. Ciao Ari! Ciao Caro! Tu li hai fatti i compiti di matematica? Eh, alcuni. Perché? Perché io non ci sto capendo niente, proprio zero! Quando siamo a Marsala insieme, inventiamo spettacolini, balletti, andiamo a mare. Poi stiamo sulla casa sull'albero. E ci sdraiamo lì e parliamo. A volte anche ci addormentiamo se stiamo proprio stanca nel ritorno dal mare. Passeggiare saltissimo. Ci piace andare in giro in bici e portare a spazio il mio cane Dorian. Quando facevo gli altri sport trovavo sempre una scusa per non andarci. Invece quando devo andare in palestra mi diverto sempre. Nessuna delle due sa fare benissimo la verticale. Quindi ci appoggiamo all'armario. Non ci è mai capitato di cadere. Pure in acqua facciamo le verticali. Facciamo un sacco di bagni lunghissimi e stiamo in acqua per un sacco di tempo. Da grandi andiamo alle Hawaii. Sì! Pure in America. Devi fare le americane, io faccio le guagliane. Come si fanno le americane, quelle che cantano? I vestiti ce li scambiamo moltissime volte e abbiamo lo stesso gusto per il vestire. Solitamente ci vestiamo tutte e due sportive ma allo stesso tempo tendi. La sera quando dormiamo insieme facciamo i pigiama party. Poi pure per farla divertire io metto delle canzoni che so che a lei proprio non piacciono. però la fanno ridere. E metto a ballare in modo divertente. Qual è il colore preferito di Carolina? Turchese. Giusto. Come si chiama il suo peluche inseparabile? Bobby. Giusto. Che posto vorrebbe visitare? Non lo so. What a caso? Ehm... Non lo so. Un posto bello. Parigi. Sì. Giusto. Cosa faceva da piccola prima di andare a dormire? Ehm... Ti faceva raccontare una storia da suo padre? No, è sbagliato. Bevevo sempre il succo di pera. Ma tu non me l'hai mai letto questa cosa. Cosa vorrebbe fare da grande? Ah... Questa la so. L'attrice comica. Giusto. Qual è la frutta d'ora? Ehm... Anguria. Giusto. Il nostro voto, Ari. Speriamo, Karu. Uh! Vai, Karu! Ciao, bellissime! Dai, nove e mezzo, un bel voto. Nove e mezzo, mi va benissimo. Abbraccio. Vai. Mi piace un sacco come persona. Persone come lei. Non se ne incontrano tutti i giorni. Mi trovo benissimo con lei. Non mi annoio mai. Non la sostituirei per niente al mondo. Best friends forever, solo a Disney Channel!